Ehi, The Sound Lovers! Guarda, da una vita che non ci vediamo. Allora, mia cara Sound Lovers, diciamo il suo nome è vero, è? Nathalie. E lui? Germano. Potete fare la capella il vostro pezzo? Va bene, facciamo quella nuova? Dai. Ragazzi, bravissimi, bravissimi! In questo angolino della Chiara Gioielli, ragazzi, beh, di Gioielli ne ho due della musica danza, i Sound Lovers. Siete un unico gruppo, ma due belle vocine. Nuovo singolo, tante situazioni. Ragazzi, cosa vi aspettate da questo nuovo singolo che è uscito? Guarda, io e lui ovviamente ci aspettavamo, anzi, speravamo un bellissimo successo perché secondo noi è molto allegro, molto positivo. E per quello che abbiamo riscontrato finora, sembra che ci siamo riusciti. A questo punto, per suggellare il tutto, per il successo, ci vuole un bel marchio, ci vuole qualcosa che splenda. E ovviamente è un pensierino che vi facciamo della Chiara Gioielli. Un brillante, un gioiello, una cosa molto, molto particolare. Un gioiello della Chiara Gioielli, ovviamente. Buona balletta, eh. E beh, Fabiola, voglio dire, le caratteristiche di bellezza ci sono. No, di bellezza, di bellezza, di bellezza. Chiara Gioielli, splende. Lo consegniamo ovviamente a lei, la figura femminile dei Sound Lover. Questo qui lo appenderai ovviamente al tuo collo e risplenderà ovviamente insieme alla Chiara Gioielli. Va bene? È bello fare la cantanza, hai capito? Eh, vedi, sono questi. Queste sono le satisfazioni. Io che faccio sempre le interviste, non c'ho mai niente, non becco mai niente, manco la maglietta, lo spruzzino, è lo spruzzino, quello sì. Te lo regalo io il gioiello, non ti preoccupare. Naturalmente è della Chiara Gioielli. Naturalmente è della Chiara Gioielli. Naturalmente è della Chiara Gioielli.